Mettiti in gioco, non aspettare. Come nello sport, anche nella vita bisogna essere in due. C'è bisogno di donare e di ricevere. Io sono Alessandra Patelli, atleta della Nazionale Italiana di Canottaggio ed ho partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella specialità del 2 Senza insieme alla mia compagna ed amica Sara Bertolasi. Insieme si raggiungono i grandi risultati, quindi fai come me ed iscriviti al registro di donatori del midollo osseo. Potrai essere l'abbinata vincente per un paziente in attesa di trapianto. Match it now! Match it now è la settimana mondiale e nazionale dedicata alla donazione di midollo osseo. Tutti gli altri giorni è importantissimo iscriversi al registro di donatori volontari e per farlo è semplice. Se hai tra i 18 e i 35 anni basta recarsi in un centro trasfusionale vicino alla tua residenza e sottoporsi a un semplice prelevo di sangue. Questo serve per la tipizzazione del sangue e così potrai dare speranza e aiutare i tanti malati in attesa di trapianto che però non riescono a trovare un donatore compatibile. Più siamo e più aiutiamo e diamo speranza ai tanti malati! Grazie! 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 Grazie!